Nell'oscurità, come poter ritrovare Dio se non offrendogli sempre più anime e moltiplicando le missioni ai quattro angoli del mondo? Per placare la sete di Gesù, come lei amava dire, Madre Teresa si imbarca in una sorta di corsa alle anime. La sua lotta contro l'aborto non è forse il maggiore esempio di questa volontà di salvare più anime? The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. If a mother can murder her own child in her womb, what is left for you and for me to kill each other? Grazie a tutti.